Dirigente Nobile, la scuola da lei diretta e il secondo circolo didattico ancora una volta riceve riconoscimenti non soltanto a livello locale o regionale ma addirittura in ambito nazionale come questo coro che è stato premiato a Genova. Sì, questo coro che è un coro che è nato nella nostra scuola all'Erico Solito è stato premiato a Genova per il concorso La Luna al Guinsaglio. Si tratta di un concorso per sensibilizzare i bambini più piccoli a diventare dei piccoli cantautori, quindi dei creativi, stimolare la creatività dei ragazzini e i nostri ragazzini si sono presentati per la prima volta due anni fa e hanno vinto il primo premio nazionale. Successivamente l'insegnante Gullo che li ha diretti i ragazzini ha costituito una associazione locale come sezione staccata della sezione nazionale creando appunto una sezione staccata gelese con un nuovo gruppo che continua a partecipare. E anche quest'anno i ragazzi di questo gruppo gelese hanno vinto su dieci classificati il primo premio. Abbiamo partecipato a questo concorso due anni fa vincendo il primo premio come scuola Enrico Solito. Poi diciamo che io a parte ho aperto questa associazione, un'associazione culturale musicale a cui fanno parte questi ragazzi e abbiamo interpretato la canzone vincente di quest'anno del concorso La Luna al Guinsaglio. E adesso questi ragazzi continueranno quindi questo percorso, questo progetto? Sì, il progetto del cantautorato appunto di cercare ad avviarli non solo all'ascolto e alla riproduzione di canzoni famose ma anche a scriverle loro le canzoni di loro pugno e ad ascoltare cantautori un po' più diciamo importanti della musica italiana. A partire da Fabrizio De Andrè, Gino Paoli, Bruno Lauzi. Insomma se ci dovessimo vedere fra qualche anno in un talent show nazionale non sarebbe una sorpresa? Speriamo di sì, però noi abituiamo sempre i nostri ragazzi a stare con i piedi per terra e a prenderla soprattutto come un'esperienza di vita formativa. Una ennesima eccellenza insomma che nasce da questa scuola, che nasce dai bambini peraltro piccoli di scuola elementare e che vengono appunto attenzionati a livello italiano nazionale. Sì sì, ma fra altre cose questi bambini crescono e continuano questo percorso. Ecco questi sono quelli che si dicono risultati a distanza che noi ci pregiamo di avere come ritorno.